Analizziamo il comportamento del circuito RC parallelo al variare della frequenza. L'impedenza del parallelo, se la sviluppiamo, è data da questa espressione in forma algebrica, parte reale più parte immaginaria, dove abbiamo una parte reale positiva, una parte immaginaria negativa che rappresenta la reattanza capacitiva e se la esprimiamo in modulo e fase, abbiamo appunto un termine di modulo, un termine di fase, espresso dall'arco tangente della parte immaginaria sulla parte reale. Rappresentiamo il circuito del parallelo e andiamo a studiare il suo comportamento al variare della frequenza, partendo da frequenza uguale 0. A frequenza uguale 0, la reattanza capacitiva è infinita, quindi il circuito parallelo si riduce alla resistenza, in parallelo a un circuito aperto che rappresenta la reattanza capacitiva, quindi il comportamento del parallelo sarà di tipo resistivo e tutta la corrente che arriva sul parallelo passerà nel ramo resistivo, mentre nel ramo capacitivo a reattanza infinita, ovviamente la corrente sarà 0 a frequenza 0. diciamo che in generale per valori di frequenza piccoli, relativamente piccoli, avremo quindi il ramo resistivo prevalente come comportamento sul ramo capacitivo, quindi rappresentiamo la reattanza di valore elevato graficamente con un simbolo più grande, all'aumentare della frequenza la reattanza capacitiva via via perderà di valore, scusate, prima ho detto il contrario, era la reattanza capacitiva prevalente sul ramo in parallelo, adesso a frequenza infinita la reattanza capacitiva diventa nulla e quindi il parallelo si riduce alla resistenza in parallelo a un cortocircuito, quindi tutta la corrente circolerà nel ramo capacitivo e sarà 0 la corrente nel ramo induttivo e quindi di conseguenza le fasi dell'impedenza tenderanno alla fase del ramo capacitivo, quindi a meno 90 gradi. Disegniamo adesso il modulo dell'impedenza Z al variare della frequenza, abbiamo quindi in ascisse la frequenza in ordinate il modulo dell'impedenza, abbiamo che a frequenza 0 equivale l'impedenza RC parallelo alla sola resistenza, quindi parte da un valore di impedenza uguale ad R e al crescere della frequenza l'impedenza, il modulo dell'impedenza tenderà a 0 che raggiunge quando la frequenza diventa infinita, quindi un andamento di questo tipo che tende a 0 per F che tende all'infinito. Contemporaneamente avremo una perdita di importanza della componente resistiva rispetto a quella reattiva. L'andamento della fase al variare della frequenza, disegniamo il quarto quadrante in quanto la fase è negativa, abbiamo a frequenza 0 che è presente soltanto la componente resistiva, quindi fase 0, all'aumentare della frequenza il comportamento andrà via via sempre di più a assumere quello della capacità del condensatore che prevarrà e quindi la fase tenderà al valore meno 90 gradi all'aumentare della frequenza, quindi tenderà al valore meno 90 gradi a variare della frequenza. Quindi questo tipo di andamento decrescente.